guarda solo per te che sa che ami la norma no no vediamo ma non è tutta tua come la pizza di pizzeria fiume come ma inutile che stai qua vicino ma come buona buona ora me ne faccio portare tutte le sei la pasta com'è il condimento ragazzi via gramsci 144 la pizza alla norma via gramsci che ho detto vittorio emanuele 144 gravina questa è la pizza alla norma con le melenzane e la ricotta salata tu non sei mascarpone sei maccagnone voglio vedere se questa norma è a non è bravo e niente fabio tu non l'ha invitato fabio sta vendicando però la malacombassa me la stai facendo fare da tutta sta gente sai cosa ti dico in maniera fine in maniera altologata poi deve il più ma non sai manco come ti chiami che ti compro ma veri che hai un tuo ex collega ex giudice vincere la canzone vabbè ci suggeriva le cose poi tu a lui ah ci suggeriva quando tu giudica stai mangiando tutta vabbè ragazzi a dopo a dopo a dopo a dopo a dopo a dopo